Benvenuti e benvenute in questo nuovo video tutorial di Orizzonte Scuola sulla compilazione della domanda per le 150 preferenze relativa alle supplenze per l'anno scolastico 2024-2025. La domanda potrà essere compilata da tutti coloro che sono inseriti nelle gradatorie provinciali per le supplenze, in sigla GPS, o nelle gradatorie esaurimento, in sigla GAE, nel biegno 2024-2026 e che sono interessati a ottenere una supplenza per l'anno scolastico 2024-2025. La domanda si potrà presentare dalle ore 9 del 26 luglio fino alle ore 14 del 7 agosto utilizzando l'usuale portale del Ministero Poli Sistanze Online. Per accedervi si può cliccare su questo link in questa pagina del Ministero, in alternativa basta cercare su un qualsiasi motore di ricerca parole chiave come Poli Sistanze Online. Dal 2021 non è più possibile accedere con le credenziali ma utilizzando uno di questi quattro servizi, i più comuni sono lo SPID e la carta d'identità elettronica. In questa pagina troviamo alcune indicazioni sulla compilazione e l'informativa sul trattamento dei dati personali. Una volta conclusa la lettura, clicchiamo in basso a destra su Conferma. Una volta effettuato l'accesso, visualizzeremo la provincia e le gradatorie scelte per l'inserimento nelle GPS o nelle GAE. A titolo di esempio qui troviamo alcune classi di concorso della scuola secondaria e nonostante non sia stato effettuato l'inserimento specifico in una gradatoria sul sostegno, sono presenti anche ABMM e ADSS che corrispondono al posto di sostegno nella secondaria di primo e di secondo grado rispettivamente. Questo è possibile perché nonostante non sia stato possibile inserirsi nelle GPS sul sostegno, è possibile però dare disponibilità anche per supplenze su questa tipologia di posto. Si può infatti essere convocati dalle cosiddette gradatorie incrociate. Per procedere alla compilazione, clicchiamo sulla freccia qui a destra. Come possiamo vedere, la domanda è strutturata con otto sezioni, alcune in grigio perché non compilabili, dipende chiaramente dalla propria situazione personale, ma andiamo con ordine. La prima sezione riguarda i propri dati personali, controlliamoli. Se ci fossero delle variazioni, possiamo modificarle cliccando in alto a destra sul nostro nome, poi su Torna su Istanze Online, cliccando nuovamente in alto a destra sul proprio nome, poi su Area Riservata e infine su Dati Personali. Passiamo alla sezione numero 2, quella relativa agli insegnamenti, dove troviamo l'elenco di tutte le gradatorie in cui siamo inseriti e l'elenco dei posti di sostegno su cui possiamo essere chiamati dalle gradatorie incrociate. Come specificato nel riquadro in azzurro, se si è inseriti su più gradatorie per la stessa classe di concorso o tipologia di posto, è obbligatorio sceglierne solamente una, rinunciando attraverso questa colonna. Nel mio caso non è selezionabile alcuna opzione, dato che non mi trovo in questa situazione. Questa possibilità è utile soprattutto per coloro che sono inseriti in una gradatoria a pieno titolo e nell'altra con riserva in attesa di accertamento del titolo oppure attraverso un ricorso, perché se l'esito fosse negativo, il servizio svolto dalla gradatoria in cui si era inseriti con riserva non varrebbe ai fini giuridici. Di conseguenza alcuni potrebbero voler dare disponibilità dalla gradatoria in cui si è inseriti a pieno titolo. Le sezioni 3 e 4 invece sono dedicate alla procedura straordinaria di nomine finalizzate al ruolo dalla prima fascia delle GPS sostegno e quindi compilabili solamente da coloro che sono inseriti nella prima fascia delle GPS sostegno a pieno titolo. Nel mio caso non sono cliccabili, dato che non mi trovo in questa situazione. La compilazione delle preferenze è comunque del tutto analoga a quella che vedremo adesso nella sezione 5, quella dedicata alle preferenze per le supplenze ordinarie. Clicchiamo su aggiungi preferenze, selezioniamo la classe di concorso o la tipologia di posto, il tipo di preferenza può essere su una specifica scuola oppure su un specifico comune, distretto oppure, novità di quest'anno, anche sull'intera provincia. Chiaramente l'opzione provincia è consigliabile solamente per chi può dare veramente disponibilità ad accettare una supplenza in una qualsiasi scuola della provincia. Se selezioniamo scuola bisogna selezionare obbligatoriamente il comune, clicchiamo su cerca e qui in basso compariranno tutte le scuole del comune. Se vogliamo compilare le preferenze tutte nello stesso modo, conviene selezionare direttamente più scuole, clicchiamo su avanti, volendo possiamo modificare l'ordine delle scuole. Cliccando ancora su avanti dovremo selezionare le tipologie di contratto. Annuale, cioè cattedra intera fino al 31 agosto, fino al termine delle attività didattiche, cioè cattedra intera fino al 30 giugno e spezzone, cioè una supplenza sempre al 30 giugno ma con un numero di ore inferiore rispetto a una cattedra intera. È possibile indicare il range orario, il numero minimo di ore non può essere inferiore a 7 dato che gli spezzoni di 6 ore o meno sono assegnati da gradatore di istituto. Il numero massimo di ore invece è quello della cattedra diminuito di 1. Ricordo che l'orario di una cattedra nella secondaria è di 18 ore, nella primaria è di 24 ore, nell'infanzia è di 25 ore. In questa maniera stiamo dando disponibilità ad uno o qualsiasi spezzone assegnabile da GPS nella secondaria. Se siamo disposti ad accettare uno spezzone di questo tipo, si può anche evitare di indicare il range orario. Se si ha paura che venga assegnato uno spezzone con troppe poche ore, si può dare disponibilità a completarlo con altro spezzone nello stesso insegnamento, in questo caso 27, su diverso insegnamento nella stessa scuola oppure in una qualsiasi scuola dello stesso comune, oppure nello stesso distretto, oppure in una qualsiasi scuola della provincia. Con cosa potrebbe avvenire il completamento? Non può sceglierlo l'algoritmo, perché l'algoritmo assegna solamente ciò che è espresso nelle preferenze. Di conseguenza, bisogna inserire nelle preferenze successive altri spezzoni che siano compatibili con lo spezzone assegnato. Selezionando le prime due tipologie di contratto, il sistema cerca automaticamente disponibilità fra le cattedre orario interne, in sigla COE, cioè cattedre intere il cui orario è interamente in un'unica istituzione scolastica. Ma è possibile dare disponibilità, attraverso questa sezione, anche alle cattedre orario esterne, in sigla COE, cioè cattedre sempre intere, il cui orario è suddiviso fra due o più istituzioni scolastiche che si trovano nello stesso comune oppure anche su diversi comuni. Ogni anno c'è un po' di confusione tra COE, COE e spezzoni, quindi aggiungo alcune precisazioni. Le voci sulle COE non riguardano gli spezzoni, dato che le COE sono cattedre intere formate dagli uffici scolastici provinciali. Non sono da pensare come il completamento di due spezzoni. Infatti, se venisse assegnata una COE, non si potrebbero accettare solo le ore di una scuola rinunciando all'altra. Dare disponibilità per una COE significa dare disponibilità per l'intera cattedra. Si dovrebbe rinunciare quindi all'intera cattedra, ma una volta assegnata una qualsiasi supplenza da GPS, bisogna prendere servizio. Se non accadesse, si applicerebbe la sanzione della mancata presa di servizio prevista dall'articolo 14,1 lettera A dell'ordinanza ministeriale numero 88 del 2024, cioè per l'anno scolastico in corso non si potrebbero avere altre supplenze da GPS per nessun insegnamento, rimarrebbero solamente le gradatori d'istituto. In generale, consiglio di leggere con attenzione l'ordinanza ministeriale, perché non esiste un modo corretto universale per compilare l'istanza. Tutto dipende dalle proprie esigenze, ma per compilare secondo le proprie priorità bisogna studiare l'ordinanza ministeriale per capire come funziona l'algoritmo. Aggiungo che anche con le COE possono capitare ore su più scuole, perché molte istituzioni scolastiche hanno più sedi, più plessi. La differenza con le COE è che tali scuole fanno capo alla stessa istituzione scolastica. E non è possibile dare disponibilità solo per un plesso. L'assegnazione delle catede infatti è stabilita dalle singole istituzioni scolastiche a inizio anno, quindi in questo momento neanche è stata stabilita. Ogni anno capita che qualcuno venga soddisfatto relativamente a una preferenza su una scuola la cui supplenza è su due plessi, di cui uno è difficile da raggiungere. Ma ciò che si inserisce è implicitamente accettato. Se non si prende servizio, si applica la sanzione che abbiamo appena visto. Di conseguenza, consiglio di controllare dove sono ubicati i plessi delle scuole che inseriamo per poter valutare con più consapevolezza cosa inserire. Se avete bisogno di ulteriori approfondimenti su COI, COE e Spezzoni, in particolare il completamento, vi suggerisco le mie video guide sulle 150 preferenze e sul funzionamento dell'algoritmo che trovate nel sito di Orizzonte Scuola. Cliccando su Salva visualizzeremo le nostre preferenze nella domanda. Possiamo spostarle trascinandole, modificarle cliccando sulla matita e anche eliminandole, selezionando e cliccando qui in alto a destra su Elimina selezionati. In generale, come funziona l'assegnazione delle supplenze? L'algoritmo analizza contemporaneamente tutte le gradatorie, le scorre secondo l'ordine dei candidati e per ogni candidato assegna la prima preferenza che trova disponibile. Nel nostro esempio parte dalla Scuola Bonarroti sulla classe di concorso a 27 e cerca una supplenza al 31 agosto, prima una COI, se la trova l'assegna, se non la trova cerca una COE nello stesso comune, poi una COE su diverso comune, se non trova neanche queste allora passa avanti a cercare una cattedra intera al 30 giugno, prima una COI, poi una COE stesso comune, poi una COE diverso comune. Se non trova neanche queste passa allora a cercare uno spezzone, se lo trova l'assegna e cerca anche di completarlo tra le preferenze successive, se non trova il completamento assegna solamente questo spezzone. Se non trova neanche lo spezzone non ha trovato nulla di disponibile rispetto alla nostra preferenza e quindi passa alla preferenza numero 2 e così via. Questo è un modo di compilare, ma osserviamo che se fosse stato disponibile uno spezzone al Bonarroti sarebbe stato assegnato questo prima ancora di andare a verificare la disponibilità di cattedre intere al Galilei Pacinotti. Molte persone preferiscono avere cattedre intere rispetto agli spezzoni e in particolare cattedre annuali dato che sono quelle col contratto più lungo. In questi casi allora non bisogna compilare in questo modo, ma bisogna prima inserire le preferenze spuntando solamente la tipologia di contratto annuale, poi ripetere le stesse preferenze spuntando fino al termine delle attività didattiche e solo in coda ripetere le preferenze spuntando gli spezzoni. Facciamolo. Modifichiamo le nostre preferenze, deselezionando fino al termine delle attività didattiche e spezzone per lasciare solo la tipologia di contratto annuale. A questo punto ripetiamo le stesse preferenze, stavolta selezionando solo fino al termine delle attività didattiche e poi rifaremo lo stesso selezionando solo spezzoni. Fortunatamente quest'anno hanno modificato la piattaforma, ci consente di visualizzare nelle preferenze anche il nome delle scuole. Fino allo scorso anno si visualizzava solo il codice meccanografico, che è il codice alfanumerico identificativo di ogni scuola, rendendo quindi molto più difficili le modifiche e il controllo dell'ordine delle preferenze. Approfitto per ricordarvi che la domanda si salva automaticamente in ogni momento. Il consiglio generale che do per la compilazione è quello di inserire tutto ciò che siamo disposti ad accettare, chiedendoci se fosse disponibile solo questo, preferirei inserirlo o non avere nulla e sperare in qualche supplenza breve da gradatore di istituto? Ricordo infatti che l'algoritmo analizza le nostre preferenze una sola volta, quindi se trova una preferenza disponibile ci assegna una supplenza, in caso contrario no. E se successivamente nascessero nuove disponibilità, l'algoritmo non analizzerebbe la gradatoria da capo, ma ripartirebbe dall'ultimo nominato. Questo a causa della sanzione prevista dall'articolo 12,4 dell'ordinanza ministeriale che considera rinunciatari sulle preferenze non espresse. Se volessimo inserire una nuova preferenza possiamo farlo in qualsiasi momento, basta sempre cliccare su aggiungi preferenze, selezionare la classe di concorso o tipologia di posto. Io adesso per differenziare la modificherò rispetto alla precedente e sempre per differenziare selezioniamo una preferenza di tipo sintetica, ad esempio comune. In questo caso il sistema andrà ad analizzare tutte le scuole all'interno del comune selezionato in ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici. Possiamo inoltre scegliere il posizionamento. Se ad esempio non vogliamo inserire in coda e poi trascinare possiamo direttamente dire la posizione in cui inserire la preferenza. Clicchiamo su avanti e selezioniamo le tipologie di contratto che ci interessano. E come vediamo la preferenza comparirà nell'esatta posizione indicata. Le preferenze sintetiche sono utili per dare disponibilità con una sola preferenza su tutte le scuole di un determinato comune, distretto oppure dell'intera provincia. Ricordo infatti che le preferenze sono 150 in totale anche per chi ha più classi di concorso o tipologie di posto. Se però siamo prioritariamente interessati ad avere delle supplenze in specifiche scuole, magari perché più vicine, allora è bene inserire queste prima e successivamente preferenze sintetiche. In sintesi bisogna inserire tutte le possibili supplenze che si è disponibili ad accettare, anche quelle che si preferirebbero meno ma in mancanza d'altro si accetterebbero comunque. Passiamo ora alle altre sezioni. La sezione numero 6 è per tutti coloro che si sono iscritti nelle gradatorie indicando di beneficiare della legge numero 68 del 1999 che consente di avere una quota di posti riservata. La sezione numero 7 è per i beneficiari della legge 104 del 1992. Non si poteva compilare durante la fase di iscrizione nelle gradatorie, si può compilare in questa fase. Bisogna selezionare la propria situazione e successivamente compilare questi campi e caricare il file con la documentazione per attestare il possesso della 104. In questa sezione bisogna ricordarsi di cliccare su Salva, altrimenti i dati non vengono salvati. Infine, la sezione numero 8 è quella dedicata al repilogo di tutta la domanda in cui possiamo controllare che tutto sia stato compilato correttamente. Una volta appurato, clicchiamo su Inoltre. Per ulteriori esempi di compilazione della domanda, informazioni sull'algoritmo, sulle nomine finalizzate al ruolo dalla prima fascia delle GPS sostegno e sulla minicall veloce, vi consiglio il mio minicorso con le videoguide che trovate nel sito di Orizzonte Scuola. I question time sul canale YouTube, il canale Facebook e il sito di Orizzonte Scuola e chiaramente tutti gli articoli sul sito di orizzontescuola.it Grazie.